Come confermato anche dal mister di Francesco, Nainggolan ha subito una punizione esemplare per quanto riguarda il famoso video fatto dopo Capodanno. Il giocatore infatti non solo è stato multato con il 25% dello stipendio mensile, ma addirittura non è stato neanche convocato per la sfida contro l'Atalanta. Di Francesco infatti nella sua conferenza ha confermato che il regolamento interno non accetta comportamenti di questo genere e che deve essere ad esempio per gli altri giocatori. Allora, prima di tutto voglio parlare e voglio rivolgermi a quelle persone che stanno dicendo eh sì, ha mascherato questa cosa perché in realtà lo vuole far riposare contro l'Inter. Proprio qualche settimana fa lo stesso Nainggolan era diffidato prima della sfida contro la Juve e molti infatti avevano chiesto a Di Francesco ma Nainggolan giocherà contro il Cagliari, lo lascerà riposare e Di Francesco ha detto testuali parole se io pensassi alla Juve prima di Roma-Cagliari sarei un idiota. Non l'ha detto proprio così, comunque per far capire che bisogna pensare partita dopo partita. Quindi, a prescindere da tutto, io sono convinto che se Nainggolan non avesse fatto quella cavolata per me avrebbe giocato titolare e magari avrebbe riposato Strootman che nelle ultime partite non ha ritrovato più la forma di qualche settimana fa. Punto numero uno. Punto numero due. Questa scelta, come ogni scelta, ha diviso la piazza tra chi gli dà ragione e chi gli dà torto. Allora, premetto fin da subito che per me questa scelta è giusta. E basta, non ci sono cavoli che tengano. Prima di tutto perché i giocatori sono tutti uguali e sono tutti dei professionisti. Qua nessuno sta dicendo che Nainggolan non poteva divertirsi a capodanno ma nessuno lo ha obbligato a riprendersi e a far vedere il suo comportamento un po' fuori dalle righe a tutto il mondo, davanti a tutto il mondo. Non è che essere bravo ed essere il giocatore, secondo me, più forte della rosa ti impone di fare come cavolo ti pare, di arrivare tardi a allenamenti o di ubriacarti e farlo vedere a tutto il mondo. La Roma, comunque, come tutte le altre società, ha una reputazione da difendere. Quei giocatori, soprattutto Nainggolan, la rappresentano in tutto e per tutto. Nainggolan è uno dei rappresentanti principali da anni, per esempio, indossa le magliette alla presentazione ufficiale. Questo è un esempio per farvi capire quanto è importante Nainggolan all'interno dell'ambiente Roma. E se Nainggolan fa una brutta figura o comunque si mostra in una veste non proprio consona davanti a tutto il mondo, è giusto che venga punito. Ma come lui, come qualsiasi altro giocatore. È questo che mi dà fastidio perché molte persone si stanno lamentando del fatto che Nainggolan non ci si può rinunciare perché è fortissimo. Per carità, quello sicuro. Però il comportamento deve essere comunque analizzato e segnalato perché se fosse stato un Bruno Perez, ad esempio, molti tifosi avrebbero chiesto la carcerazione, lo avrebbero mandato via calci in culo. E questa è la differenza. Essere forte nel campo non ti implica a fare come ti pare fuori dal campo. O quantomeno, se tu vuoi divertirti a capodanno, non ti riprendi. Punto. E basta. Questa scelta, diciamo, che mi ha fatto capire che la società Roma ci tiene al proprio onore, diciamo. Comunque ci tiene a farsi rispettare davanti a qualsiasi giocatore. Che sia Nainggolan, che sia De Rossi, che sia chiunque. E questo è un atteggiamento che è identico a quello che ha causato la Juve l'anno scorso con Bonucci. Ricorderete molto bene Bonucci aveva litigato con Allegri ed è stato mandato in tribuna prima dell'ottavo di finale di Champions League, non una partita a caso, contro il Porto. Io sono d'accordo con il fatto che la Juve se lo può permettere di più, perché comunque la Juve, anche senza Bonucci, rimane una squadra forte e in quel tempo molto più forte del Porto. Quindi loro hanno fatto questa scelta consapevoli che comunque, anche senza Bonucci, erano in grado di passare e di battere il Porto. Noi invece, attualmente, contro un'Atalanta informissima, rinunciare a Nainggolan è una scelta molto più rischiosa e complicata. Perché già con Nainggolan sarebbe difficile battere all'Atalanta in questo momento, considerando che loro sono in un ottimo momento di forma e noi non particolarmente eccellenti. Diciamo così, non diciamo pessimo perché non è proprio pessimo. D'altro canto, però, non si può lasciare andare soltanto perché è forte. Se io fossi un compagno di squadra di Nainggolan e vedessi che lui per questo gesto non gli è stato fatto niente, allora penserei, ma allora sta società si fa mettere i piedi in testa dei giocatori forti. Loro fanno quello che gli pare e tanto gliele passano tutte solo perché sono forti e non possono rinunciare a loro. Per carità, lo ripeto ancora una volta, la scelta da Roma è difficile. È difficile, sono sicuro che ci hanno pensato attentamente perché rinunciare a un giocatore come lui in queste partite è molto molto complicato. Però è una scelta che andava fatta, secondo me, per dimostrare a tutti che comunque la società merita rispetto. Mettetevi un pochino nei panni dei dirigenti della società. Voi stipendiate con un bello stipendio, non con 50.000 euro all'anno, stipendiate moltissimo un giocatore che dovrebbe rappresentarvi in tutto e per tutto. Lui fa un video davanti a tutto il mondo entrando nel centro delle polemiche facendo vedere una sua veste troppo esagerata, troppo esagerata, secondo me. Cosa fareste voi? Gli abbonereste tutto? Secondo me no. Secondo me, visto che ci spendete i soldi e lui rappresenta la Roma e diciamo che in generale anche la Roma non ci ha fatto questa gran bella figura, è giusto che venga punito. Lo stipendio alla fine per quanto sono tanti soldi per lui non è tantissimo, perché lui guadagna 4 milioni all'anno è circa 100.000 euro, quanto è, non è tantissimo. Però la squalifica per me è giusta. È giusta anche se lo ripeto, è molto molto rischiosa, però deve servire da lezione anche per gli altri giocatori che se tu vuoi fare una cavolata, vuoi divertirti, non c'è bisogno che lo fai vedere a tutto il mondo. Spero che sia stato chiaro questo discorso, fermo restando che io non ce l'ho assolutamente con Angolan, per me ha sbagliato ma rimane il giocatore più forte che abbiamo e dobbiamo assolutamente fidarci di lui dalle prossime partite, dalla prossima partita contro l'Inter in poi perché è troppo troppo importante, però proprio perché sei importante devi capire che certi tuoi comportamenti non devono essere imitati e queste punizioni servono proprio a questo. Fatemi sapere nei commenti voi che se ne pensate della non convocazione di Angolan per la sfida contro l'Atalanta, scusate se in alcuni punti si vede che, tipo adesso non so se si vede molto bene, però c'è tipo un riflesso del mio braccio, comunque della mia faccia, purtroppo ho subito un danno sulla fotocamera del cellulare e tra qualche giorno lo porterò ad aggiustare e tra circa uno o forse due settimane, tornerà tutto come prima. Un saluto e sempre Forza Roma, ci vediamo domani per le 10 curiosità di Roma Atalanta. Ciao ragazzi!